Siamo qua in via Serenato, questo è l'albero che dovrebbero buttare giù, sono nei lavori, forse può darsi che dà fastidio, guardate l'ingresso, forse da qua, però non credo che dà così tanto fastidio alla fine, peccato, perché devono buttarlo giù, qua sono nei lavori. Eterna, non possiamo entrare, perché è un cantiere, ecco, non c'è il minimo vento, proprio zero, ma. Grazie.